Il primo possesso per il Famia con Settano a porta in palla, Settano si fa da Nathalie, quindi Anderson, tutto il blocco alto di Nathalie, quindi Anderson ancora da Nathalie un po' spasso, con la sede da tre, porta a rimbattere l'azione, in certo modo, in passione. Fisicamente io penso che la giocatrice va stando meglio, ovviamente, che è la llegata, sicuramente il lavoro che facciamo le ultime due settimane è questa ultima settimana e ora poco a poco iniziaremo la preparazione più tactica, la preparazione di partita, propiamente dita con la Supercopa della prossima settimana. E, tatticamente, poco a poco troviamo la nostra maniera di giocare, una maniera che è vallida per che tutte le giocatrice prendano responsabilità in nostro attacco e prendano responsabilità in nostra defensa e facendo un gioco di squadra che mi piace molto. Tutti le giocatrici fanno 5 o 6 giocatrici fanno 9 punti a 18 punti, questa è la chiave per giocare bene a Bala con questo secondo me. No, sicuramente la nostra defensa è molto meglio. Seguramente prendiamo di trovare non una maniera di difendere, sino due o tre maneras di difendere la defensa individuale, sicuramente difensas especiales che facciamo che non mostramo ancora, ma sicuramente la nostra defensa è molto meglio, una defensa più tactica, difensa in diverse secondi di posizione, una maniera di difendere il pick and roll, di difendere i diversi blocchi, e poco a poco la giocatrice sta trovando la forma corretta di ottenere la nostra defensa. Penso che stiamo pronti per giocare bene, sicuramente non so se 40 minuti, se 40 minuti di alto livello, ma dobbiamo prendere vantaggio dei nostri buoni momenti, non so se, trattare che i mali momenti siano minimi e giocare insieme, giocare tranquillamente come squadra. ... ... ... ... ... ... Io penso che quando la squadra sta giocando bene, sta giocando facile e fa canestro con facilità, sicuramente la stessa cosa giocare qui che giocare in altra parte, però sicuramente non va a essere il caso e quando la squadra non sta fina, non sta troppo correcta in la posizione del campo, i tifosi sono fondamentali e l'ambiente è speciale qui nel palazzetto e sicuramente dobbiamo stare insieme tutta la società per provare di conseguire il primo titolo della stagione. Grazie. 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 Grazie.